ehi ci riconosci siamo i tuoi carrozzieri di fiducia ti ricordiamo che in caso di incidente stradale la legge tutela la libertà di scelta del tuo carrozziere di fiducia è un tuo diritto per una riparazione di qualità veloce e sicura non far decidere ad altri come e dove far riparare la tua macchina scegli la tua carrozzeria di fiducia